Fiorentini, direttore di Fuoriluogo, il sito di informazione di Forum Droghe, rappresento anche Forum Droghe in questa conferenza stampa che vuole presentare una lettera aperta al governo in vista del prossimo vertice ONU sulle droghe che si terravienna prima dal 14 al 15 di marzo e poi dal 18 al 22. Qui con me, alla mia destra c'è Grazia Zuffa, presidente della Società della Ragione, alla mia sinistra Denise Amerini della CGL Nazionale e Marco Perduca dell'Associazione Luca Coscioni. Promuovono questa lettera, oltre al Forum Droghe, Società della Ragione, CGL e l'Associazione Luca Coscioni, il CNCA, la Lila e con l'adesione di Antigone Arci a Buon Diritto e Lega Coop Sociali. A marzo ci sarà questo importante appuntamento a Vienna, la 62esima sessione della Commission on Narcotic Drugs, che sarà anticipata il 14 e 15 marzo da un segmento ministeriale di alto livello in cui si dovrà fare il punto rispetto agli impegni presi a livello di organizzazione delle Nazioni Unite rispetto all'applicazione delle convenzioni sulle droghe. Questa sessione riteniamo che sia molto importante perché dopo la sessione speciale dell'Assemblea Generale del 2016 è venuto il momento di fare il punto su come e quanto gli obiettivi che le Nazioni Unite si sono date già nel 1998, ovvero un mondo senza droghe è possibile, siano stati nei fatti disattesi e quindi si è avvenuto il momento di fare una seria valutazione degli effetti di quelle politiche che sono a nostro avviso deleteri e capire come proseguire all'interno del processo di regolazione delle sostanze superfacenti a livello mondiale. Io lascio la parola subito a Grazia Zuffa che ha seguito da tempo da numerosi vertici delle Nazioni Unite e presenterà i contenuti della lettera aperta al governo. Sì, ma diciamo il primo intento della lettera è di spiegare l'importanza di questo appuntamento di cosiddetto segmento ministeriale della CND, cioè due giorni in cui i capi di governo e i ministri di tutto il mondo discuteranno delle politiche internazionali sulle droghe. Dico questo perché non pare che l'attuale governo abbia piena consapevolezza dell'importanza di questo appuntamento, mi riferisco al fatto che nell'ultima relazione al Parlamento che è stata presentata all'inizio dell'autunno 2018, nell'introduzione del governo appunto a questo documento, non si fa minimamente cenno a questo appuntamento. Quindi si parla tanto di politiche globali, di globalizzazione, di lotta al traffico internazionale, di internazionalizzazione anche appunto dei mercati e poi non si considera questo appuntamento. Il primo, diciamo, la prima richiesta che facciamo al governo è di tenere fede a quanto l'Italia e tutti gli altri paesi hanno sottoscritto nel 2016 all'Assemblea Generale dell'ONU sulle droghe, cioè di avere un dialogo costante con la società civile, con le associazioni, con la comunità scientifica sulla politica delle droghe. E quindi chiediamo che così come appunto in preparazione, fu fatto in preparazione dell'Assemblea Generale dell'ONU sulle droghe del 2016, ci sia un momento pubblico di confronto sui contenuti delle politiche internazionali e sul raccordo anche delle politiche nazionali con le politiche internazionali con la società civile. Questo è tanto più importante perché negli ultimi anni tutti gli appuntamenti, diciamo, di discussione pubblica sulle droghe, ad iniziare dalla conferenza nazionale sulle droghe, non sono più state fatte. Quindi diciamo che i governi procedono in assoluta autoreferenzialità su questo problema. Quello che, per ciò che riguarda, diciamo, i contenuti, chiediamo che quelli che sono i punti, stati punti di arrivo dell'Assemblea Generale dell'ONU del 2016, vengano riconfermati e approfonditi. Quali sono i principali? I principali sono prendere atto, cioè valutare la compatibilità degli obiettivi di contrasto alle droghe con gli obiettivi generali delle Nazioni Unite, che sono pace, sviluppo e diritti umani. E questo è una questione molto seria perché, prendendo, per esempio, l'obiettivo generale delle Nazioni Unite per lo sviluppo, dobbiamo prendere atto che nei primi anni del 2000, per il nome della guerra alla droga, soprattutto nei paesi dell'America Latina, ma non solo, diciamo però soprattutto nei paesi dell'America Latina, sono state implementate delle politiche molto aggressive e violente di sradicamento delle coltivazioni illegali, che hanno portato povertà, guerra e distruzione e militarizzazione dei territori e così via. E tanto è vero che dobbiamo ricordare che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2016, che era un'assemblea straordinaria, fu chiesta proprio da alcuni paesi dell'America Latina per riflettere su quanto era accaduto e vedere di correggere e quindi sostituire a politiche così aggressive e violente delle politiche, diciamo, in cui la riduzione delle coltivazioni illegali fosse però accompagnata da sostegno allo sviluppo, lotta alla povertà e così via. Vi è poi il campo dei diritti umani e dobbiamo ricordare che da molto tempo a livello internazionale si parla delle cosiddette unintended consequences, cioè delle conseguenze indesiderate, diciamo, dei programmi di lotta alla droga che vengono fatti. Fra questi c'è la questione di come interviene il diritto penale sulle droghe e questo ha voluto dire che alcuni paesi continuano ad applicare la pena di morte. Questo ha voluto dire che in molti paesi ci sono pene più alti per le droghe che non per i reati contro le persone e anche l'omicidio e se guardiamo anche all'Italia dobbiamo riflettere anche su questo perché una delle conseguenze indesiderate è che è l'alta percentuale di incarcerazione per reati di droghe e il 40% degli ingressi in carcere avvengono in violazione della legge antidroga. Il 71% sta in custodia cautelare di chi è imputato di reati alle droghe sta in custodia cautelare e questo è un dato riportato dalla relazione del governo. Non solo ma dal lavoro che hanno fatto le ONG di ricerche in profondità risulta che di questi terzo diciamo anche di più 40% che entrano in carcere la gran parte entra per reati minori di droga non per i reati più gravi e questo è il diciamo dal punto di vista del principio della proporzionalità delle pene che è un principio fondamentale dei diritti umani deve far riflettere. L'ultima questione che voglio sollevare è che era contenuta diciamo nel documento finale dell'Assemblea Generale dell'Oro del 2016 è che uno degli obiettivi principali del sistema internazionale è quello di far sì che la proibizione non impedisca la disponibilità di sostanze ad uso medico. Ora c'è una grandissima sproporzione fra il quanto la commissione sulle droghe narcotiche che è appunto l'organismo internazionale che governa poi le politiche internazionali dedica di attenzione a l'implementazione diciamo della parte penale delle convenzioni e l'attenzione che dedica alla disponibilità di sostanze ad uso medico. Nonostante i richiami anche che ci sono stati su questo da parte dell'organizzazione mondiale della sanità continua ad essere diciamo ci sono interi paesi che non riescono neanche a cedere ai farmaci essenziali il antidolore e nonostante questo ci sono delle spinte a far sì che alcune sostanze che nei paesi in via di sviluppo vengono utilizzate come anestetici per esempio la chetamina o il tramadolo vengono messi nella tabella diciamo delle sostanze proibite a livello internazionale che vorrebbe dire privare ancora di più soprattutto i paesi in via di sviluppo di questi dei farmaci essenziali perché farmaci antidolore sono essenziali. Infine l'ultima cosa che vorrei dire è che c'è stato recentemente un importante pronunciamento dell'organizzazione mondiale della sanità circa la classificazione della cannabis. La cannabis è ancora poi spiego perché classificata anche nella tabella quarta cioè nella tabella che contiene le sostanze più pericolose la cui pericolosità non è sufficientemente controbilanciata da proprietà terapeutiche. L'organizzazione mondiale della sanità propone di eliminarla dalla tabella quarta il riconoscimento invece delle proprietà terapeutiche della cannabis e del fatto che non è una sostanza particolarmente pericolosa. Ora questo dovrebbe naturalmente potremmo anche dire che questo pronunciamento dell'organizzazione mondiale della sanità viene diciamo dopo il fatto che molti paesi compresa l'Italia hanno implementato la cannabis terapeutica che molti paesi hanno preso atto del minor rischio della cannabis e quindi hanno proceduto a legalizzazione eccetera. Però è importante anche a livello internazionale che questo pronunciamento dell'organizzazione mondiale della sanità sia confermato dalla commissione sulle droghe narcotiche. Ricordiamoci che c'è un punto di contraddizione che da una parte si richiede all'organismo scientifico perché queste sono questioni diciamo in cui quello che conta il parere scientifico è di dare il parere però la decisione finale la prende l'organismo politico cioè la commissione sulle droghe narcotiche. Ora per pressioni politiche nel passato è avvenuto che per esempio nella prima decade del 2000 è avvenuto che un parere dell'organizzazione mondiale della sanità di apprezzamento sulle proprietà del dronabinolo cioè di un cannabinolo desintetico per paura che questo volesse dire come dire un alleggerimento diciamo del punto di vista delle sulle proprietà della cannabis semplicemente il neppure mai arrivò fu messo in un cassetto e non arrivò neppure sul tavolo della commissione per le droghe narcotiche. Ecco quindi è un fatto di anche se volete di trasparenza e credo che la trasparenza sia importante in politica anche nelle politiche internazionali ricordiamoci che il allora segretario generale dell'ONU nel dare il via diciamo alla assemblea generale straordinaria sulle droghe del 2016 raccomandò che quella fosse una sede di un dibattito completo e onesto sui risultati diciamo delle politiche e su possibili alternative e quindi ci auguriamo che il anche il nostro governo porti avanti questa linea di coraggio e trasparenza. Marco Perduca, associazione Luca Cascioni. Parto da questo ultimo auspicio. Il governo Renzi che partecipò alla sessione speciale del 2016 obbedì a questo impegno preso non soltanto mantenendo nei limiti del possibile perché stiamo comunque parlando di una questione che non accomuna quasi nessuno degli stati membri neanche dell'Unione Europea per visione strategia o ideali o ideologia nel coinvolgere anche la società civile nella ricerca di suggerimenti ma anche di elementi di criticità portati avanti da chi segue la questione da molto tempo su vari aspetti l'aspetto legale l'aspetto politico l'aspetto sociale l'aspetto sanitario l'aspetto medico ma se vogliamo anche l'aspetto culturale se è vero come è vero e ce lo dice il governo 8 milioni di italiani tutti gli anni incontrano una sostanza proibita 8 milioni su 60 credo che rappresentino una fetta significativa di qualsiasi demografia si stia parlando del nostro paese il governo recente direi che la composizione del quale quando è stata adottata la terza convenzione sugli stupefacenti nel 1988 andava all'elementario alle medie quindi giustamente magari conosce meno la questione non si è però posto il problema di fare lo stesso non tanto perché noi si detenga il verbo o comunque quanta più conoscenza possibile su determinate questioni anche se senza diciamo lodarci e imbrodarci tra noi lo siamo ma comunque neanche di porsi il problema di ascoltare voci che vengono da angoli della società della politica in senso lato o anche delle esperienze più provenienti dai servizi che in questi anni comunque spesso anche indipendentemente dalle scelte governative perché non è che abbiano mai dato segnali di grande liberalità negli ultimi anni hanno comunque continuato a seguire il problema nelle ultime due settimane il problema è stato invece sollevato dalla stampa italiana in particolare dal Corriere della Sera che con una serie di articoli avviati con l'editoriale di Polito e poi con delle interviste o dei presunti approfondimenti tutti rigorosamente svolti all'interno del boschetto di Rogoredo che è un po' una sodoma e gomorra del terzo millennio del nostro paese hanno fatto dire al ministro Fontana che è il deputato a seguire la questione a domanda rispondo come si direbbe in una stazione dei carabinieri cosa ne pensa della convocazione della poco fa ricordata mancanza della sesta conferenza nazionale sulle droghe lui ha detto cercheremo di capire come portare avanti questo dialogo e secondo lui il dialogo è rispondere a delle domande di giornalisti sul Corriere della Sera perché né prima né durante né pare dopo perché l'intervista che ha rilasciato ormai di qualche giorno fa si è avuta notizia della convocazione anche informale di tutti quelli che oggi presentano questa lettera e non è che noi ci siamo svegliati a un mese dall'evento tutto fin dall'avvicendamento alla direzione del dipartimento per le politiche antidroga ormai avvenuta due anni fa abbiamo cercato di proseguire il cammino segnato nel 2014 15 e sicuramente 16 perché grazia faceva parte della delegazione italiana in quattro organizzazioni non governativa che ha partecipato alla ungas lo stesso l'associazione luca coscioni era presente nella delegazione col professor andrea boggio abbiamo accompagnato non chiedendo l'esclusiva della partecipazione o dell'imposizione di idee geniali ma insomma cercando di mantenere vivo questo dialogo società civile al governo su queste questioni ecco non c'è mai stato neanche risposto se non a un'ultima lettera che proprio come ha detto il ministro sarebbero state fatte delle consultazioni che magari si stanno facendo ma non se ne ha notizia e questo secondo noi è preoccupante perché ci incrociamo due dei temi meno popolari dal punto di vista del dibattito pubblico le droghe e la politica internazionale faccio un brevissimo calendario anche per far capire come questo non è sicuramente un problema nazionale ma insomma diciamo l'italia non si è fatta mancare nulla nel peggio ma alle volte anche nel meglio per quanto riguarda le politiche sulle droghe le tre convenzioni che regolamentano la presenza di queste sostanze nel mondo sono datate 1961 71 e 88 quindi un'era geologica fa dal punto di vista politico addirittura l'ultima adottata l'anno prima del crollo del muro di berlino la prima sessione speciale dell'assemblea generale sulle droghe è stata fatta 10 anni da quella data e cioè nel 98 con lo slogan che ricordava leonardo poco fa e cioè un mondo libero dalla droga si può fare cinque anni dopo nel 2003 a vienna si è tenuto un segmento ministeriale dove capito che non si stava cancellando la droga dalla faccia della terra si è deciso di neanche prendere in considerazione i lati positivi di quell'esercizio e non ci si è dato l'appuntamento di mantenere nel 2008 la seconda sessione speciale dell'assemblea generale e ci si è convocati nel 2009 per adottare una dichiarazione politica che però ritornava pur non con toni bellicosi sulla necessità di ridurre la domanda ridurre l'offerta e favorire una cooperazione internazionale dal punto di vista del controllo cioè dell'applicazione del diritto penale contro tutte queste sostanze dal 2009 l'appuntamento sarebbe stato quello in effetti del 2019 per fare il punto ma come è stato ricordato poco fa proprio dai paesi che maggiormente hanno subito le conseguenze della guerra alla droga cioè quelli che dal messico arrivano fino in argentina tutta l'america centro meridionale è arrivato un grido d'allarme in cui si è detto in particolare con grande coraggio da parte della colombia del guatemala e del messico stesso che avevano tutti i governi di centro destra noi non ce la facciamo più abbiamo bisogno di anticipare questo dibattito almeno al 2016 per affrontare tutta una serie di questioni in maniera radicalmente diversa rispetto a quanto ci eravamo detti nel 98 avevamo confermato nel 2009 e più o meno continuava a essere la visione prevalente in tutto il mondo salvo essere fortunatamente arrivato a un certo punto il presidente degli stati uniti che risponde al nome di barack obama che non era antiproibizionista non era a favore della legalizzazione ma sicuramente era meno entusiasta della guerra alla droga tant'è vero che sospese i finanziamenti per il famigerato plan colombia col quale si fumigavano vallate intere ammazzando più persone e piante che non eradicando la foglia di coca nel 2016 in un processo che noi anche lì abbiamo accompagnato non soltanto in dialogo col governo ma anche partecipando alle sessioni della commissione sulle droghe narcotiche e noi saremo presenti sia nel segmento ministeriale dal 14 al 15 che per la sessione vera e propria della settimana successiva sponsorizzando degli incontri che hanno a che fare con la ricerca per l'uso medico delle sostanze stupefacenti e per tornare a parlare di diritti umani nel cosiddetto controllo delle droghe cioè la guerra alla droga perché in alcuni paesi persiste in particolare con un evento sulle filippine dove per ordine del presidente duterte si continuano a ammazzare anche i consumatori non gli spacciatori non che si possa in qualche modo condonare questo tipo di esecuzioni extra giudiziarie però di certo anche chi meramente usa o si ritiene usi perché poi non c'è mai la prova viene messo a morte dagli squadroni che nottetempo lo prelevano e lo fanno scomparire ecco noi ci troviamo quindi in un contesto molto complesso non neghiamo le difficoltà ma meno se ne parla pubblicamente e diciamo da una parte sarebbe anche benvenuto il dibattito aperto da Corriere della Sera se non fosse che si intervistano sempre gli stessi e si ritiene di non dover rispondere a magari in maniera diciamo in prima pagina ecco ma nella sezione delle lettere che ne so a quello che si cerca di opporre alle non argomentazioni di Antonio Polito. Polito l'anno scorso ci aveva meravigliati e per l'appunto eravamo tutti riuniti a una riunione di forum droghe con un lunghissimo editoriale che poteva essere datato 1983 mentre invece eravamo nel 2018. Questo ultimo editoriale poneva cinque punti sui quali credo che tutti si sia d'accordo nell'individuarli come problemi poi lui fortunatamente almeno in quel pezzo non avanzava delle risposte ma per come è andato avanti il dibattito sulle pagine del Corriere di certo si è visto ritornare in auge nomi che pensavamo essere consegnati un po' alla storia di questo paese uno su tutti San Patrignano che però nel frattempo è diventata anch'essa un'associazione sicuramente per meriti in alcuni campi indiscutibili cioè il business della trasformazione di alcune attività gratuite in grande eccellenza dal punto di vista vitivinicolo e equestre è un'associazione affiliata alle Nazioni Unite come molte delle nostre sono. Ecco noi chiediamo al governo intanto di prendere visione di questi punti che non sono nostre idee ma sono un ricordo di quello che tutto il mondo ha adottato ad aprile del 2016 di farci capire se e come intende ascoltare anche quello che negli anni è stato composto e nella relazione al Parlamento del 2017 una sezione era identicamente dedicata alle organizzazioni non governative con delle proposte che poi piano piano comunque sono entrate a far parte delle decisioni governative ne dico una dal maggio dell'anno scorso tra i livelli essenziali di assistenza noi abbiamo anche la riduzione del danno con 25 anni di ritardo magari rispetto a quello che sarebbe stato necessario fare però ce l'abbiamo il governo di allora e quello di adesso ancora non ci hanno fatto sapere però come si intende articolare questo titoletto e soprattutto come si intende finanziarlo. Qui si potrebbe andare avanti per ore come le buone idee ma anche le politiche mancate sono come le ciliegie. Concludo dicendone una e collegandomi a la raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute relativamente alla ricollocazione o cancellazione della cannabis dalla quarta tabella della convenzione del 61. Sono almeno quattro anni che alle Nazioni Unite si lavora attorno a una spiegazione dell'articolo 15 del patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali che gli esperti iniziano a chiamare diritto della e alla scienza. Noi abbiamo sempre ritenuto che le politiche contro la droga fossero incostituzionale se non altro perché non garantivano la proporzionalità della pena e quando qualcosa non è costituzionale molto probabilmente confligge anche con molti altri principi e leggi a livello internazionale. Se e quando le Nazioni Unite ci faranno sapere quanto è ampio questo diritto della cioè di poter fare ricerca e il diritto alla cioè poter godere dei maggiori e più recenti sviluppi del progresso tecno scientifico ecco probabilmente non prendere in considerazione la cancellazione di questa ma come tutte le altre sostanze lo ricordava Grazia prima abbiamo rischiato che addirittura la chetamina venisse posta sotto controllo internazionale può essere un'ulteriore violazione di un obbligo internazionale dei nostri governi. Noi queste cose le diciamo non per avere ragione ma perché non si facciano e continueremo a dirlo e nei limiti del possibile a fare cose perché in effetti non si facciano. Grazie. Grazie a Marco Perguduca, Denise Amerini della CGL. Sì brevemente perché poi le cose sono state ampiamente e compiutamente illustrate sia da Grazia che da Marco che mi hanno preceduto cioè le motivazioni che hanno spinto le organizzazioni e le associazioni firmatarie della lettera indirizzata al governo nonché di quelle che poi successivamente hanno aderito perché appunto le organizzazioni e le associazioni della società civile abbiano un ruolo e possano portare il proprio contributo e la propria esperienza dentro questa discussione. Ai fini appunto è stato ampiamente detto di spostare il dibattito dal tema della repressione che abbiamo visto non ha assolutamente funzionato perché come già è stato detto è impossibile e impensabile un mondo in cui le droghe non esistono ai temi della promozione dei diritti umani e dei diritti civili. Dentro i diritti umani vorrei sottolineare un aspetto assolutamente parziale ma non per questo meno importante che è quello del diritto alla sicurezza e alla salute di tutti i cittadini siano questi consumatori che non consumatori. E quindi la promozione delle politiche di riduzione del danno di cui ampiamente si è parlato in Europa tant'è che fanno parte di uno dei quattro pilastri delle politiche di intervento nei confronti delle droghe e delle dipendenze e che finalmente anche lo dico con una punta d'orgoglio grazie al lavoro importante fatto dalle associazioni della società civile e dalle organizzazioni della società civile sono state nel 2017 inserite nei livelli essenziali di assistenza. ma come si diceva poco fa al fatto che la riduzione del danno sia stata inserita nei livelli essenziali di assistenza non sono poi seguiti interventi che finanzino adeguatamente e che dicano poi in che cosa la riduzione del danno si sostanzia a livello proprio di interventi che si fanno nel territorio. Ci sono invece in Italia, nel nostro territorio, esperienze importanti portate avanti anche in maniera assolutamente sperimentale che dimostrano come la riduzione del danno sia un intervento efficace che va implementata, sostanziata e bisogna far sì che venga adeguatamente finanziata perché questi interventi escano dal carattere di sperimentalità che fino ad oggi hanno avuto e diventino interventi strutturali. Questo è un aspetto parziale, indubbiamente ma che ci dice di come sia necessario che il ragionamento sia affrontato a tutti i livelli e da tutti i ministeri competenti. Per questo rivendichiamo anche l'intervento della Ministra Grillo perché l'intervento del Ministero della Salute ci pare che sia fondamentale e importante non solo e non soltanto in termini esclusivamente di cura ma proprio per spostare il ragionamento dalle politiche di sicurezza alle politiche generali di promozione della salute. Quindi chiediamo di essere ascoltati chiediamo di avere un ruolo nella discussione che si produce intorno al tema delle dipendenze e chiediamo che finalmente venga organizzata la conferenza nazionale sulle droghe che manca da troppo tempo nel nostro Paese anche se i segnali, lo diceva anche Marco prima che abbiamo e che leggiamo sulla stampa non sono da questo punto di vista certo incoraggianti. A maggior ragione ci pare importante far sentire la nostra voce in un momento in cui leggiamo un ritorno indietro rispetto ai passi che si erano fatti nel senso appunto del passare da politiche che guardano alle dipendenze alle droghe sono in termini di sicurezza e di giustizia in termini di appunto salute pubblica e di sicurezza nel senso proprio della salute pubblica. Riteniamo importante che ci possa essere sia nel segmento della CND che nell'organizzazione della conferenza nazionale sulle droghe un ruolo della società civile che è portatrice di conoscenze e competenze in questo settore che non vanno assolutamente trascurate. Grazie Denise. Se ci sono domande se qualcuno che vuole intervenire non so se Corleone vuole... Microfono. Sì, stavate dicendo i segnali finora dal governo non sono incoraggianti anche su questo tema si intuisce che ci siano nella maggioranza posizioni e sensibilità diverse. Al di là dei segnali che cosa vi aspettate? Avete idea di quale sarà la direzione che poi prenderà questo governo anche riflettendo gli esiti di quello che potrebbe essere l'ennesimo braccio di ferro interno su un tema così sensibile anche alla luce del dibattito sulla sicurezza che sappiamo essere dominato un po' dalla componente leghista? Per quanto sappiamo è in corso una consultazione interna nella composizione della delegazione che parteciperà al segmento ministeriale il che già diciamo potrebbe come lei giustamente sottolineava far uscire un problema il problema è che è un dibattito interno allora come l'altro giorno è stato chiesto al ministro della giustizia dove sono l'ordine del giorno o comunque le minute della riunione dove è stato deciso di bloccare la 18 qui malgrado si continua a parlare di trasparenza di democrazia diretta poi tutto viene deciso o in un software proprietario o in una scena tra amici ecco noi che veniamo magari da una stagione politica diversa non necessariamente migliore al 100% ma almeno un minimo di dibattito pubblico anche all'interno delle forze che sostenevano un governo c'era soprattutto per tutte le questioni che non rientrano nel contratto di governo e questa non rientra nel contratto di governo abbiamo in separata sede ormai da diversi mesi incontrato rappresentanti del ministero dei governativi del ministero degli esteri della giustizia della salute e io anche il presidente del consiglio non abbiamo parlato esclusivamente di queste cose riteniamo che dalla pubblicazione speriamo dalla notorietà dell'esistenza di questa lettera poi vengano date delle risposte però l'unico che ha detto qualcosa forse perché in effetti c'è una massima teorica competenza istituzionale è il ministro della famiglia che ha detto quello che ha detto cioè un po' non si è capito non si è capito nemmeno se vado a Vienna devo dire magari un'interrogazione parlamentare magari un dibattito o una risoluzione che possa chiedere al governo di venire in aula e riferire che cosa quali sono le posizioni o le priorità che l'Italia intende portare avanti a Vienna anche perché solitamente l'Unione Europea entra con una dichiarazione comune ecco non vorremmo che anche qui in nostro paese salutiamo il passaggio di uno dei pochi onorevoli che si interessa di esteri cioè di Quartapelle si caratterizzi ancora una volta per addirittura come faceva quando c'era lui nel senso di Giovanardi bloccare il consenso europeo su alcune questioni di buon senso però oggi ne sappiamo purtroppo poco perché non c'è alcun dibattito voglio aggiungere solo una cosa pensiamo che la questione delle droghe sia una questione importante e quindi non vogliamo pensare che rimanga solo in un sorta di mercato diciamo fra componenti di governo devo dire che la richiesta che facciamo di trasparenza e di confronto con la società civile va anche in questa direzione insomma per far sì che sia un confronto di idee prima ancora che una lotta di potere o meglio ancora che sia appunto un confronto di idee per trovare le soluzioni politiche migliori e non una lotta di potere quello che un po' ci lascia sconcertati è che ci sono alcuni ministri mi riferisco in particolare al ministro Fontana i quali non sembrano neppure conoscere quale la legislazione sulle droghe ho visto che per due volte il ministro Fontana ha fatto riferimento deprecando la modica quantità bisognerebbe spiegargli la modica quantità non esiste più dalla legge del 90 era nella legge del 75 quindi diciamo se vogliamo metterla così un confronto con la società civile potrebbe avere anche degli ottimi risultati pedagogici nei confronti diciamo dei nostri governanti Franco Corleone mi aggancio a quanto adesso ha detto grazie a Zuffa perché siccome noi apparteniamo al secolo scorso anche per le questioni della droga ci tocca ricordare un lungo percorso quando Bettino Craxi fece il più grande errore della sua vita politica quello quello di prendere come battaglia significativa la war on drugs fece una campagna contro di noi definendoci il club della modica quantità e leggere oggi il ministro protempore Fontana ha un vantaggio questa cosa perché si ringiovanisce di molto ma dà l'idea che non sanno quello di cui parlano addirittura mi dicono perché io non guardo le oscenità ma mi dicono che sul sito del Dipartimento Antidroga si attesta che ancora esista la legge Fini Giovanardi dopo che è stata ben cancellata dalla Corte Costituzionale nel 2014 ecco se siamo a questo punto c'è da preoccuparsi di quello che possa accadere e d'altronde c'è un è stato ricordato le cose che Polito scrive sul Corrierone questa era la definizione che dava la mia professoressa di italiano al liceo il Corrierone a Milano che era un giornale insomma fieramente reazionario ma il le cose di Polito sono fanno poi da spinta per prese di posizioni preoccupanti che portano addirittura il Ministro dell'Interno a chiedere l'aggravamento delle pene per lo spaccio e ha detto testualmente che andrebbero quintuplicate il che vorrebbe dire una pena da 40 a 100 anni di carcere Alfredo Rocco non aveva mai pensato a una cosa del genere non c'è nel codice penale italiano una pena di questo genere ma anche qui forse perché non sanno ma il l'articolo 73 appunto ha questa pena oggi da 8 a 20 anni e quindi moltiplicando per 5 sarebbe questa assurdità ma la cosa ancora più preoccupante è che sulla su questa questione c'è uno sbarrimento anche fra coloro che dovrebbero essere più attenti sensibili culturalmente il momento in cui su Repubblica appare una pagina intera di recensione di un libretto di un autore di fiction americane senza nessuna dignità scientifica contro la legalizzazione e invitando i genitori a preoccuparsi della salute dei loro figli e questo è ripreso in un'altra pagina sul venerdì di Repubblica e poi sul supplemento culturale del sole 24 ore appare un'altra recensione di questo libretto ecco vuol dire che c'è uno smarrimento io credo che questo schieramento così vasto di associazioni debba prendere parola e iniziativa politica per contrastare questa situazione io che sono garante dei detenuti nella regione toscana insieme a tutta la conferenza dei garanti territoriali siamo estremamente preoccupati di quello che sta succedendo nelle carceri veniva ricordato prima la presenza di persone per violazione dell'articolo 73 della legge 309 del 90 cioè per detenzione o piccolo spaccio sfiora ormai in tutta Italia il 40% delle presenze in carcere se aggiungiamo a questo il numero di detenuti classificati come tossico dipendenti andiamo oltre il 50% ecco questa questione è declinata come questione penale e contribuisce a quella invivibilità che prima o poi porterà l'Italia a essere nuovamente condannata per violazione dei diritti umani grazie a Corleone io aggiungo solo due cose la prima rispetto al al governo io trovo quanto meno curioso che un tema che dovrebbe essere di di attinenza parlamentare ovvero la legalizzazione della cannabis salutiamo Giacchetti che lupus infabula che appunto è questione di competenza parlamentare venga stoppato e scartato perché non all'interno del contratto di governo mentre questioni di applicazione delle leggi sulle sostanze vengano interpretate in questo modo molto rozzo e diciamolo repressivo da parte del ministro Fontana senza alcun richiamo al fatto che non sono all'interno del contratto di governo da parte del partito peraltro di maggioranza relativa di questo governo ci auguriamo che ci sia un risveglio almeno un moto di orgoglio da parte di chi in campagna elettorale ha dato indicazioni ben diverse rispetto al trattamento delle politiche sulle droghe l'altra nota che volevo fare era sul parere dell'Organizzazione Mondiale di Sanità rispetto alla Cannabis che oltre a declassificare la Cannabis to cure ha anche inserito nel suo parere il fatto che il CBD e le preparazioni a base di CBD con THC al di sotto del 0,2% non debbano essere oggetto delle convenzioni internazionali questo per buona pace del ministro degli interni e del ministro alla famiglia porrebbe fine a quel dibattito assurdo che c'è nel nostro paese rispetto alla cosiddetta pericolosità anche della Cannabis Light l'altra questione che volevo sottolineare è stato detto da Marco Perduca prima lo scorso governo non solo aveva nonostante sulle droghe poi non abbia fatto grandi rivoluzioni anzi praticamente nessuna lo scorso governo però oltre a fare un dibattito pubblico prima di Ungas 2016 aveva permesso alle associazioni della società civile di partecipare a quel vertice nella delegazione governativa caso raro se non unico fra gli stati che parteciparono in quel caso forum droghe è membro consultivo di ecosoc per cui sarà presente a Viene ed ha allargato la propria delegazione alle associazioni che hanno potuto partecipare sarebbe importante che però questo governo della partecipazione della trasparenza doveva fare uno dei suoi capisaldi facesse lo stesso se non ci sono altre domande o interventi io ringrazio chi ha partecipato ringrazio l'onorevole Erasmo Palazzotto del gruppo di Libero Uguali che ci ha ospitato questa mattina e vi saluto grazie Grazie a tutti